Ciao ragazzi, la prova di pallavolo dei campionati di facoltà home edition, pallavolo maschile. Io dico il nome della facoltà e voi mi dite il vostro nome. Mediazione? spes, farmacia, medicina, agraria, studenza, veterinaria, penze motorie, Marco Cesario, studi umanistici, passi Stefano, grande, bomber passi Stefano e scienze e tecnologie, Andrea. Allora, vi do io il via, quando vi do il via partite, ok? Non potete allontanarvi, se qualcosa non va ve lo dico io. Allora, ci siete? 3, 2, 1, via! Ragazzi, ho anche qua, ognuno ha la sua tattica, usano quasi tutti la tattica di un braccio alla volta. Tutti stanno resistendo bene? No! Passati 50 secondi! Quanti secondi resistono ancora tutti? Ci saluta veterinario! Saluta Federico! Ci saluta anche Michele! Dopo un minuto! Giurisprudenza! Saluta anche Alex! In mediazione! Rimangono ancora sei ragazzi! Passati un minuto e mezzo! Vengono ancora tutti e sei ragazzi! E' passati un minuto e cinquantacinque! Ebbene! Abbiamo ancora sei! Non mollano! Non mollano! Come la rigola? 5! 6! Saluta! Agraria, giusto? E medicina! Agraria e medicina si salutano! E qui siamo? In 4! Ah, 4! Andaro si beso! Tiene botta! 2! 3! Rimangono 4! Rimangono 20 secondi! Ne rimangono ancora 4! 15 secondi! 5! 4! 3! 2! 1! 40! 45! 45! Qui dice quel ragazzo? Chi dice? Chi dice代! Scenze e tecnologie e f rain papa, a scontare via! più di umanistici scienze e tecnologie scienze motorie e spesso è vero Stefano di spesso grande 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 raga il nostro più forte giocatore di calcio della storia ha vinto la gara di pallavolo siamo più grandi raga grandissimi ho rifatto pallavolo bravi tutti bravi tutti bravi tutti ragazzi grazie